L'unico modo per poter aprire quella porta voodoo è accendere tutte e 25 le torce tiki con il lanciafiamme che troverai sulla barca. Usa la levetta analogica sinistra per sterzare e premi il tasto X per attivare il lanciafiamme. Ah, aspetta un'altra cosa! Hai bisogno di carburante per il lanciafiamme e l'unica fonte di carburante sono i tirania che stanno nuotando qui intorno. Palli fuori con la barca, un pesce, un colpo secco. Svelto hai soltanto due minuti per riuscire ad accendere tutte le torce. Ciao a tutti, mi chiamo Gabri Costa. Voi dovete sapere che adesso noi siamo qui ad Haiti. Qui ad Haiti abbiamo un minigioco da fare. Siccome Sly Cooper è a bordo di questa barca, di questo motoscafo, voi dovete sterzare e manovrare con la levetta analogica sinistra, ma per raccogliere carburante dovete fare fuori questi piragna e premete il tasto X per attivare il lanciafiamme. Dovete accendere 25 torce tiki se volete aprire quel cancello e prendere la chiave, ma bisogna fare alla svelta perché abbiamo due minuti. Dobbiamo farcela. Questo è un altro minigioco da fare. Sempre ammesso che questi piragna si facciano prendere. Non posso stare lì a rincorrerli. Se riusciremo a farcela, vinceremo una chiave. Bisogna accenderle tutte e 25 queste torce tiki. Da che ci siamo quasi. Dobbiamo fare alla svelta. Se si riesce a trovare l'ultima. L'abbiamo acceso 24. E ce l'abbiamo fatta. Abbiamo acceso 25 torce. E ci siamo riusciti. E ora la chiave è tutta nostra, ragazzi. Fate i complimenti al vostro amico prosciore ladro. Arrivederci.